Ilaria in questo momento rischia l'ergastolo, l'Ilaria rischia fino a 24 anni di carcere. Siccome in Ungheria un giorno in carcere vale 1, ma un giorno ai domiciliari vale un quinto, Ilaria moltiplicando per 5 la pena massima, 24 anni, raggiungiamo un periodo di carcerazione cautelare, di carcerazione domiciliare di 120 anni, l'ergastolo.